ciao a tutti benvenuti su magista flotus per iniziare questo nuovo fantastico video vi ricordo che potete iscrivervi al canale lasciare un like commentare si va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati vi ricordo anche potete supportare il nostro progetto facendo un abbonamento su youtube a partire dal 0 99 centesimi al mese o su twitch con amazon prime video potete abbonarvi al nostro canale gratuitamente ricordatevi però che di mese in mese va rinnovato l'abbonamento quindi date un occhio vi ricordo anche il nostro sponsor fantasy a store.it uno degli store online più forniti d'italia spedizione in 24 48 ore codice sconto lotus 5 per avere 5 per cento di sconto sui prodotti non scontati di cosa parliamo oggi parliamo del pro tour delle carte dell'economia che è stato nel pro tour quali carte potrebbero salire quali carte potrebbero scendere cosa non è da comprare cose da comprare il pro tour che abbiamo visto è stato modern si è svolto ad amsterdam in questo weekend al meci con un evento veramente pazzesco e ha visto dominare questa carta qua nadu winged wins dom una carta fortissima che per chi l'ha provata l'ha giocata anche solo in commander la giocata in modern eccetera il limited sicuramente ha capito che è una carta veramente fuori di testa a vedere cosa fa nadu 34 costo 3 volare quando una creatura che controlliamo viene targettata da una spesa o da un'abilità qualsiasi sia nostra che dell'avversario riveliamo la prima carta se una terra la mettiamo in campo altrimenti la prendiamo in mano ogni creatura può triggerare due volte ok quindi se noi abbiamo tre creature possiamo triggerare questa abilità sei volte in un turno ed è veramente pazzesco perché lo facciamo a costo zero con sciuco che è un altro che un artefatto a costo uno che chi fa a zero allora nadu ha dominato il pro tour 25 per cento al dei uno quindi vuol dire che uno un giocatore su quattro ha giocato questo mazzo cinque intopotto quindi cinque su otto una quantità veramente pazzesca un rate molto alto una un senso di superiorità pazzesco e voi direte e quindi la carta dovrebbe salire no di prezzo non dovrebbe scendere e invece no sta corollando perché le persone si aspettano un ban e non hanno tutti i torti vedete come ha perso 45 euro pur essendo ripeto la carta più forte più giocata bla 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 quindi il l'analisi su nadu e quel è corretta quella che sta facendo il mercato cioè il rischio è troppo grande di un ban e troppo sotto l'occhio del ciclone quindi comprarli adesso è sbagliato ok quindi in questo momento qua non comprate nadu secondo me aspettate un attimo perché ci potrebbero essere novità a breve seconda carta da non comprare secondo me è sol spike carta che ha visto gioco nel secondo mazzo probabilmente che ha vinto questo questo pro tour nel senso che mono black ha dato una sensazione di forza importante abbiamo grief abbiamo la nuova removal che la player of my life che ci permette di sacrificare grief dopo averlo evocato per togliere la creatura preso al più grossi al nostro avversario e so spy che parte fondamentale di questo mazzo no con necro dominans con c'è oltre ed altre carte ragazzi questa è una carta che sempre valsa 20 centesimi è una carta che ha tantissimi anni a 20 anni circa è sempre valsa 20 centesimi in questo momento storico in quel mazzo di modern è oggettivamente molto molto forte però ragazzi comprarla a queste cifre per me è letteralmente una follia carta che ha zero di stampe molto probabilmente verrà ristampata wizard quando vuole perché può metterla anche tra tre mesi come tra sei mesi come tra otto mesi non è detto che il deck comunque anche pur essendo fortissimo secondo me eccetera rimanga in meta come tier 1 per sempre altra cosa fondamentale io stesso avevo diverse copie di su spike da parte perché era una carta che non valeva niente le tenevo lì ci sono tanti venditori che adesso che la carta è speccata potrebbero tirare fuori decine decine centinaia di copie quindi fate attenzione comunque questo momento storico proprio oggi domani dopodomani siamo di fronte a uno spike ma ci siamo dentro bisogna aspettare non spendete 30 40 50 euro a copia per questa carta perché secondo me vi farete molto molto male in futuro magari terra i 20 euro 25 euro per un periodo ma ragazzi poi il rischio per questa carta qua è veramente troppo troppo alto poi non è una carta che si gioca in in altri formati è proprio una carta mono deck e se quel deck per caso non è più sulla crescente londa questa carta inizia a essere venduta e crolla quindi non comprate sono spike soldi buttati famiglio allora tamiglio la ritengo una carta fortissima per me è uno dei place walker migliori di questa espansione delle creature che diventano place walker migliori se non la migliore bisognerebbe un attimo valutarle meglio a gianni anche fortissimo oggettivamente a gianni tamiglio mi sembra i più forti sorin è ottimo rale ottimo grist è buono però anche grist ripeto contesto conta tanto grist non ha trovato finora il contesto giusto dove esplodere tamiglio pensavo foste molto più presente a questo pro tour ma lo pensavano un po tutti no infatti il prezzo era veramente alto questo non è successo però qui c'è una doppia lettura su questa carta post ban di nadu la percentuale di mazzi che giocherà tamiglio si alzerà e questa è una bella domanda potrebbe essere di sì la risposta quindi tamiglio magari in questo periodo finché non bannano nadu è in discesa e poi potrebbe salire credo che in due parole questa sia la sintesi migliore per descrivere questa carta in modern in questo momento che è nel mercato quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi e passiamo alla prossima alla su play è anche qui un discorso molto particolare perché la carta è una buona carta in la mia valutazione sul valore della sul pavoleva della carta intrissecamente in realtà non è così buono nel senso che la carta per me una buona carta ma non è una carta wow e bianco rossa molto intensiva spara danni ma non è detto che faccia meglio perché ci deve essere un target che muore con quei tre danni e non è detto secondo me ha diversi lati che non mi fanno impazzire uno però dei lati positivi che vi faccio vedere un'altra carta che invece da comprare e con l'arena flori la stampa di questa carta qua ha reso play più forte perché fare flage rapido grazie appunto all'effetto di excerpt di arena of glory quindi che ci dà due mana rossi se giochiamo una creatura una magia creatura a rapidità flage diventa più forte perché farlo rapido cambia tantissimo invece farlo solo che spara tre danni che non è ovviamente un effetto scarso però incide molto di più se può attaccare può fare 12 danni in un turno dal nulla quello è veramente quella è veramente una giocata fortissima però però la mia opinione su flage è quella che vi ho detto quindi carta limitata bicolor con due colori non così belli non è detto che in tutti i meta vogliamo flage nel deck vediamo detto questo in energy è molto molto forte molto molto forte veramente molto molto forte ed è giocabile e forte anche in uvr control ok quindi ci sono già due archetipi che la possono giocare e possono sfruttarla bene e poi sono tutte le variabili quindi mardu energy bla 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 il prezzo è sui 40 45 euro attualmente ed è veramente alto il mio consiglio è voi vedete flage come una carta da 70 80 euro da 60 per me la risposta è no è una carta che se rimarrà stabile nel tempo a 30 35 è già un prezzo non basso per la carta che moda horizon 3 si aprirà tantissimo io noto anche sommettendo delle valutazioni generali e io noto anche una certa sfiducia nel modern rispetto al passato e nadu sicuramente non aiuterà abbiamo visto un pro tour dove oggettivamente ci sono stati tantissimi mirror tantissime con nadu noiosi veramente brutto sia da vedere che da commentare un un pro tour cosino bellissime le partite per esempio tron contro mono b tutti quegli archetipi la bellissimi invece flage oggettivamente carta un po così quindi su flash o questa questa opinione qua quindi una carta che magari secondo me potrà valere un po meno rispetto ad adesso se banano nadu potrebbe avere un po più richiesta però magari poi cambia anche il meta e non lo so io non l'acquisterei a 50 60 euro l'uno cioè mi sembrano prezzi veramente troppo alti per un set che si aprirà per anni è un set che si aprirà per anni arena glory ve l'ho già detto compratela ecco questa è proprio una carta da comprare perché secondo me è una carta fortissima e le terre che danno rapidità anche in commander sono molto richieste e per dare rapidità al proprio comandante o alle creature che entrano in gioco quindi carta veramente fortissima niente da dire arena ottimo investimento necro dominans ecco qua abbiamo l'altra carta mitica 1400 coppie una ventina di euro circa il prezzo di partenza carta forte si può giocare in commander multi si può giocare in commander 1 v 1 si può giocare in moderna si può giocare in in legacy oggettivamente sembra una buona carta non vedo come il prezzo possa essere più basso di questo visto il contesto attuale il mono nero è veramente un gran deck mi piace molto ed è molto forte non non è detto che verrà mai mai toccato da ban però perché pur essendo molto forte vediamo perché come tutti i decai tabile e bisogna capire se è così solido e riesce a fare cose così rotte così tanto soprattutto quando quando se verrà bannato nato diventerà tier 1 o lì vicino quanto potrà essere e itato facilmente quindi questa è quello che c'è da dire necro dominans a questo prezzo mi sembra anche un buon investimento non comprate la regola però prendete magari la foil io l'ho pagata poco di più eccola qua infatti qualche euro in più prendete la foil normale oppure guardatele la versione all day out la versione foil è un po più alta eccola qua e la versione regolare invece eccola è sui 22 prendete piuttosto o la foil normale o la all day out regula una delle due poi abbiamo gianni ecco a gianni potrebbe spiegare a gianni potrebbe spiegare perché perché una carta che costa solo bianco molto più versatile di altre carte che abbiamo visto con tantissime sinergie con orcibo master con flage che spara 21 fulmine o galvanic su su 21 per flipparlo l'effetto quando si flippe forte a gianni è veramente una carta che potrebbe salire stare alta stabilmente in comandare forte potete giocare in tantissimi deck può essere anche il vostro comandante veramente una bella carta mi piace quindi a gianni è una carta su cui si può investire si può investire si può comprare come vedete i prezzi vabbè quelli sono dall'inghilterra comunque sui 25 30 poi la potete trovare c'è anche la versione alternativa due versioni alternative eccola qua questa è quella una è quella foil strana e poi c'è questa che è anche molto bella mi piacciono tutte e due provvedete al prezzo simile alla regular quindi carta che si può comprare allora potrebbe salire griff appunto per mono black griff adesso come adesso sembra essere quello che impatti di più degli elementali più di solito più disabelti e più di endurance quindi griff è probabilmente il l'elementale di mh2 su cui investire in questo momento potrebbe salire e potrebbe salire molto dopo il ban di di nadu quindi questa è la carta da side sun cleanser carta che sta salendo allora su questa carta qua se riuscite a pagarla poco anche in lingue strane prendetela perché non tanto come investimento ma servizio per giocarle lingue strane invece per l'investimento dovete prenderla per lo più in inglese vi conviene prenderla perché appunto post bandina adu potrebbe schizzare perché potrebbe salire potrebbero salire tutti i deck energy quindi questo è un call importante da fare perché altrimenti magari poi la dovreste la dovrete pagare 4 5 euro ok quindi prendetela adesso piuttosto tenetela lì così se poi banano nadu ce l'avete già pronta the one ring the one ring è in salita vedete è in salita e devo dire che sono d'accordo questa carta se non fosse stata la la carta di riferimento di lord of the ring sarebbe già stata bannata anni fa un annetto fa quando uscì perché la carta oggettivamente oppi è indistruttibile sul cass ci da protezione ci fa pescare centomila perdiamo le vite vero ma possiamo gestirla come cosa quindi chi se ne prega ho visto una giocata pazzesca di gescai contro l'energy che con minamo una terra di kamigawa vecchia che stappa i permanenti leggendari è riuscito a pescare 13 carte in un turno perché ha fatto 5 più 6 11 più al pescata di turno più un peschino singolo in 13 carte pescate in un turno cioè vi rendete conto è veramente fuori di testa oggettivamente fortissima come come si fa e poi poi addirittura ha perso è però è perché ormai modern e far west è una follia no però un una partita dove tu puoi pescare 13 carte in un turno cioè è veramente fuori dal mondo poi adesso è pieno di carta costo zero quindi pescare 13 anche se è poco mana è comunque fortissimo perché riesci comunque a fare tante giocate forti è il motivo per cui solo spike sta salendo no con necro dominance voi potete pescare quanto volete e non dovete scartare così tante carte perché giocate i so spike a instant quindi anello e l'anello potrebbe essere una carta a prendere adesso non vi aspettate magari una crescita incredibile cioè non è che se adesso vale 70 passa a 115 non lo so non credo nel breve però magari da 70 passa a 95 e quindi già comunque 25 euro in più su un 100 euro in più a set mi se vi servono per giocarli prendetele assolutamente poi vabbè ci sono delle versioni particolari che stanno a prezzi altissimi questa è a prezzi altissimi questa pure anche questa non prezzi altissimi che non siano dei buoni investimenti è tipo questa per me è un ottimo investimento 96 copie disponibili eccola ma sta salendo vedete come sta salendo in fretta ecco la foil sei riuscito a comprarne una foil prendetela perché a parte che sarebbe bellissimo e secondo me un ottimo investimento veramente una bella carta poi abbiamo vrat of the skies e poi faremo un ragionamento su sui eldrazi vrat of the skies fortissima carta che vi avevo consigliato se non sbaglio nella top investments io per esempio ne ho comprata una old layout foil o due non mi ricordo che infatti guarda sono a prezzi fogli adesso cioè 20 euro quando l'ho pagata credo 67 euro 6 euro e mai giustificato perché la carta eo p come vi dissi anche nel video della top investments credo fosse quello dovrei controllare è una carta che è fortissima perché voi a costo 3 o se avete dell'energia costo 2 riuscite a spaccare artefatti incantesimi creature e potete gestire voi quanto mana spaccare e fortissima anche multiplayer fate conto uno parte terra sorring l'altro parte terramana volte l'altro fa umana clip e voi fate tappo 2 spacco tutti gli artefatti e le creature capite bene che è veramente forte veramente veramente una carta forte questa una bellissima vratta che vi dà le energy pagando x se volete giocarla in un mazzo senza energy potete ma è la pagate di più se invece come sta succedendo adesso in modern la giocate in un mazzo con le energy l'ha pagata un po meno allora discorso sugli eldrazi e poi chiudiamo gli eldrazi potrebbero beneficiare del del ban di nadu quindi qualora venisse bannata nadu se voi vi aspettate il ban di nadu investite su le carte symbol degli eldrazi cosa voglio dire trinisfera è una carta che finché c'è nadu è forte ma non è dominante invece col ban di nadu diventa op cioè eldrazi con trinisfera diventa un mazzo ancora più forte il carice del nulla purtroppo non ve lo consiglio tantissimo perché ve l'ho già detto anche in altri video con tutte queste carte che hanno un costo alternativo loro non hanno non costano 1 2 3 come nei tempi passati in modern anni fa si giocavano 12 14 drop a 1 12 14 drop a 2 10 12 drop a 3 capite c'era molto più lineare la curva adesso non è per niente così guardate il mazzo mono nero a soul spike alle le force le malice quindi tutte carte che prima erano removal a costo 1 e 2 e adesso sono removal mass removal a costo 3 4 5 quindi il calice è diventato molto meno forte molto più forte la trinisfera quindi trinisfera carta su cui ci si può pensare e poi la base degli eldrazi quindi il devurer il drop a 7 nuovo e tutte quelle carte che possono andare in sinergia in quei mazzi la interessante anche vedere la lista contro the breach che appunto a fare emra culo una mog rapidi per far saccare i permanenti all'avversario anche quella qualche carta sta salendo si può valutare se vi è piaciuto questo video lasciate un like iscrivetevi al canale commenta si va attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati ciao ragazzi